È stata un'emozione grandissima, non so descrivere questa emozione perché è bello, è il sogno di tutti i bambini, quindi sono contentissimo e anche per il risultato che abbiamo portato a casa. Adesso da domani cominciamo a lavorare a testa bassa e pensiamo a domenica al Verona. Andare a San Siro è una grande cosa, è bello andare a giocare contro l'Inter, è una squadra fortissima, però adesso pensiamo a domani a cominciare ad allenarci bene e a pensare a domenica con il Verona. Ci stiamo impegnando, ci stiamo dimostrando e quindi il mister ci dà la possibilità di dimostrare e di giocare al migliore dei modi.